Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi Apostoli Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore Siano lodati Gesù e Maria, cari fratelli e sorelle, il profeta Geremia è tra i profeti dell'Antico Testamento quello che più di ogni altro è figura di Gesù, è quello che più di ogni altro ha sofferto, perché lo hanno veramente perseguitato. Il Signore gli faceva dire cose spiacevoli per quel tempo e i suoi compaesani non lo volevano ascoltare. Peraltro hanno tentato di ucciderlo, l'hanno buttato dentro una cisterna, è stato preso e portato in esilio, è morto in esilio. È stata una vita veramente difficile. Infatti, come inizia questo brano che abbiamo letto Eppure, nonostante persecuzioni all'intorno, ovunque nemici, anche amici che in realtà sono nemici, Lui dice, il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo, sarà una vergogna eterna e incancellabile. Una vergogna eterna e incancellabile. Come la vergogna eterna e incancellabile di tutti gli ingiusti che in ogni tempo hanno perseguitato i giusti. Geremia era un giusto, era uno che agiva secondo la volontà di Dio. Perseguitato per questa sua giustizia, figura del giusto per antonomasia che è Gesù. Perseguitato perché giusto. Perché il giusto è di condanna agli empi con il suo essere giusto. È insopportabile il comportamento del giusto a coloro che sanno di dover essere giusti ma invece sono empi. E allora basta veramente la bontà, il comportarsi bene per essere perseguitati, per essere additati. E questo è il destino di tutti coloro che seguono Gesù. Hanno perseguitato me, perseguiteranno pure voi. Non c'è nessuno che ha lasciato casa, madri, padri, fratelli, sorelle, eccetera, per causa mia e per il Vangelo, che non sia perseguitato ma che non riceva già adesso, qui cento volte tanto e in più, la vita eterna. Ed è questo quello che dice il Signore ai Suoi Apostoli. Glielo dice in questo Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Ma il concetto che ripete più volte il Signore dinanzi a questa certezza delle persecuzioni è non abbiate paura, non abbiate timore, perché non c'è niente di nascosto che rimarrà tale. Perché a un certo punto tutto sarà reso manifesto. Anche quegli atti di virtù, di pazienza, di penitenza, che ciascuno di noi farà nel nascondimento della sua vita, sopportando pazientemente gli uomini iniqui, senza dire niente, il suo esempio di Gesù, saranno resi manifesti. Quando? Quando sarà il momento del giudizio. E arriva il momento del giudizio. Così, quel giorno, saranno rese manifeste anche le azioni nascoste che ciascuno di noi ha compiuto, nel bene e nel male. Infatti, dice il Signore, che sorprese avremo in quei giorni lì. I pubblicani e le prostitute ci passeranno avanti nel regno dei cieli. Perché noi giudichiamo umanamente per quello che vediamo esteriormente. Il Signore giudica il cuore. Guarda il cuore. Cosa che a noi sfugge. Noi non lo vediamo, il cuore. Lui invece sì. Lui sì. Lui vede tutto. Peraltro, come può colui che conosce fin anche il numero dei capelli del nostro capo, non conoscere appunto le intenzioni del nostro cuore? Conosce tutto. Sa tutto. E arriverà il giorno in cui le renderà manifeste. Allora, cari fratelli e sorelle, se è qui non dobbiamo temere. Non dobbiamo temere se seguiamo il Signore, se siamo giusti. E non dobbiamo temere. Lì dovremmo temere se qui ci saremmo vergognati di nostro Signore. E invece di vivere per Lui avremmo vissuto per il nostro vizio, il nostro peccato, il male che ci portiamo addosso. Lì dobbiamo temere. Ma fin quando rimaniamo nel Signore Gesù non dobbiamo temere di nulla. non abbiate paura degli uomini poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Non li temete i vostri persecutori, quelli che vi additano, quelli che vi giudicano, quelli che vi perseguitano. Perché? Perché se siete con Gesù, se Dio è con voi, se Dio è con noi, dice San Paolo, chi è contro di noi? Di che cosa dobbiamo temere? Chi ci può separare dall'amore di Cristo? Ancora San Paolo, Lettera ai Romani, forse la nudità, la povertà, la persecuzione, la spada, il gelo, il freddo, il caldo, ma in tutte queste cose, dice l'Apostolo, siamo più che vincitori per amore di colui che ci ha amati per primo. È proprio l'amore di Dio che ci rende vincitori, quell'amore di Dio che deve animare il nostro agire nel mondo, quell'amore di Dio che ci fa superare di un balzo a pie pari ogni tipo di rispetto umano e di finta paura di ciò che penseranno gli uomini, di ciò che penseranno gli altri per il nostro essere cristiani, per il nostro cercare di essere giusti. Perché se uno ci prova, ecco che subito tutti stanno lì ad additarti, eccolo, fa il santarellino, fa la santarellina, ma lasciali parlare. non è ciò che pensa Tizio, Caio o Sempronia che ci deve interessare, è ciò che pensa Dio di noi che vede nel segreto e al cui risponderemo alla fine di questa vita. Le opinioni degli uomini passano in fretta, durano un istante, come le opinioni nostre. Quante volte abbiamo giudicato di Tizio, Caio o di Sempronio e poi ci siamo dimenticati. Invece noi siamo sempre lì a preoccuparci di cosa penseranno gli altri se mi comporto da cristiano, se manifesto il mio essere cristiano, il mio essere seguace di Cristo. E Gesù ce lo dice, non dovete avere paura, anzi, quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Non dobbiamo avere timore di annunciare il Vangelo, di predicare il Vangelo, tanto con le parole quanto con le nostre opere, soprattutto con le nostre opere. Dobbiamo rendere manifesta nella nostra vita, alla piena luce, quella dottrina di sapienza e di vita che il Signore ha insegnato ai nostri cuori attraverso la predicazione del Vangelo. Se noi che cristiani siamo, dov'è la nostra fede se non ci sono le opere, se non è messa manifestamente in mostra del mondo. Non abbiate paura, ancora una volta, di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella genna e l'anima e il corpo. Il Signore ci insegna a disprezzare la morte, anche la morte. Ma c'è qualcosa che può far più paura all'uomo nella sua condizione umana della morte, finisce tutto. E il Signore dice non abbiate paura della morte. Perché? E questo è il Vangelo. Perché non finisce tutto con la morte. No, comincia tutto. Comincia tutto. Perché l'eternità non ha più fine. E l'eternità comincia con la nostra morte. nella nostra morte siamo proiettati su una vita eterna che può essere la vita eterna che ci ha promesso il Signore ma anche e qui il Signore ce lo prospetta anche la morte eterna. Abbiate paura piuttosto della morte dell'anima. Non è il corpo ciò che dovete curare ma è l'anima perché l'anima sopravvive al corpo e rende bello il corpo è per l'anima che il corpo è vivo è per l'anima che il corpo ha tutti i suoi beni perché senza l'anima il corpo è un cadavere è niente ed è l'anima ciò in cui dobbiamo investire ed è dell'anima che dobbiamo temere quell'anima che muore ce lo dice San Paolo nella seconda nella lettera nella seconda lettura appunto tratta dalla lettera ai Romani il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte così in tutti gli uomini si è propagata la morte poiché tutti hanno peccato immaginiamo la morte l'oscurità la tenebra eterna che si propaga negli uomini come attraverso il peccato un'infezione malevola malefica che uccide l'anima e di questo dobbiamo temere è questa l'infezione dalla quale ci dobbiamo guardare bene per carità utili le mascherine il distanziamento sociale tutto utile tutto benissimo per preservare la salute del corpo ma quante più mascherine o distanziamenti sociali dovremmo tenere dinanzi all'infezione malefica del peccato che uccide l'anima e che si propaga spesso per imitazione che adesso stiamo distanti l'uno dall'altro non ci avviciniamo per paura di un germe che forse ci manda all'ospedale e forse ci uccide va bene forse ma quanto più distanza dovremmo tenere dai pubblici peccatori ai quali spesso ci accompagniamo compiendo le medesime cose che vediamo fare a loro il peccato è infettivo chi va con lo zoppo dice un antico adagio impara a zoppicare e allora se la mia compagnia è una compagnia che parla per esempio in un modo indegno di un cristiano perché la bestemmia è indegna di un cristiano perché nessuno offende suo padre ed è uno dei peccati capitali chi bestemmia infetta pure te chi bestemmia infetta pure te perché a forza di sentirle certe cose ti risuonano nella testa e non te le togli più è un'infezione malefica questa e poi uno finisce per per dirlo non è questa un'infezione malefica che uccide l'anima sì decisamente ma non è solo questo tanti spettacoli indegni e indecenti di cristiani che adesso ci sono nelle televisioni basta accendere la televisione tutto è normale tutto è normale quando tutto è anormale serie tv indegne film indegni spettacoli indegni non è questo forse un'infezione dalla quale dobbiamo tenere un distanziamento sociale dobbiamo difendere l'anima nostra e i sensi gli occhi le orecchie sono le porte dell'anima ciò che entra attraverso le orecchie ciò che entra attraverso gli occhi va a toccare l'anima e ci abituiamo al male è terribile è terribile pensare che possiamo fare l'abitudine a ciò che è male ed è quello che capita a tanti cristiani anche a tutti noi cari fratelli e sorelle perché ci stiamo in mezzo in questo mondo non possiamo fare l'abitudine e adagiarci a ciò che è male perché è l'infezione peggiore che si propaga subito la mente che entra attraverso gli occhi attraverso le orecchie va a toccare l'anima e la conforma la avvelena in un modo subdolo lentamente è un virus malefico che piano 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 infetta l'anima e la porta alla morte di questo dobbiamo temere poi sì va bene le mascherine il distanziamento sociale le precauzioni tutto vero ma molte più precauzioni dobbiamo adottare dinanzi a colui che può far morire e il corpo e l'anima trascinandola nella genna molte di più perché il corpo fra un po' coronavirus infarto o qualunque altro modo incidente o qualunque altra malattia il corpo fra poco sarà morto l'anima no l'anima rimane l'anima resta ed è in quella che noi dobbiamo concentrarci senza trascurare il corpo vero ma principalmente concentrati sull'anima perché è l'anima la vera vita del corpo è l'anima che tiene in vita tutto il resto e lo terrai in vita per l'eternità cari fratelli e sorelle lo terrai in vita per l'eternità perché se riusciamo ad allungare la nostra vita con qualche precauzione di una decina d'anni di 15 anni di 20 anni quello che è non lo so tanto prima o poi la dobbiamo rendere ma come sarà quel giorno l'anima nostra avremo confessato la nostra appartenenza a Cristo o ci saremo vergognati di Lui vedete è terribile questa frase finale con la quale il Signore finisce questo brano evangelico terribile perché spesso mi ci specchio e dico ma tante volte forse avrei dovuto parlare e non ho parlato ho avuto timore di dire le cose pane pane vino al vino certo non sempre bisogna dire tutta la verità a tutti quanti perché non tutti sono pronti a ricevere la verità e peraltro bisogna anche saperla dire certe volte perché se io vengo e la verità te la sbatto in faccia come un pugno non è non è modo non faccio un buon servizio né alla verità né a te a cui voglio comunicarla perché perché se te la sbatto in faccia vengo a a solleticare l'orgoglio se voglio fare il maestrino so tutto io e quindi tu devi fare così così e così e tu mi direi ma che vuoi giustamente ma chi sei ma chi ti ci ha mandato perché perché solleticherei l'orgoglio altrui perché vengo con l'orgoglio spesso cari fratelli e sorelle è proprio questo l'errore che commettiamo quando vogliamo correggere qualcuno o far capire qualcosa a qualcuno che sembra non aver capito che andiamo lì pieni di noi stessi convinti che sappiamo tutto noi e sbattiamo in faccia la nostra verità come se fosse la verità assoluta e magari è pure vero quello che diciamo però il modo in cui lo diciamo impedisce a chi ci sta davanti di comprenderlo e di accoglierlo allora prima di andare a fare la buona e giusta e santa correzione fraterna al fratello o alla sorella facciamoci un esame di coscienza e andiamo con umiltà e carità perché l'umiltà e la carità aprono tutti i cuori sono l'umiltà e la carità che aprono il cuore altrui e quando un cuore è aperto con l'umiltà e la carità se arriva la verità viene riconosciuta viene accettata e otteniamo il risultato altrimenti no perché se andiamo pieni di noi stessi pieni di spocchia di superbia sollecitiamo la superbia altrui e si innalzano mori non facciamo nessun servizio alla verità da uno a uno ma quando siamo in mezzo a tanti noi dobbiamo testimoniare la verità sempre con carità sempre con pazienza sempre con umiltà ma testimoniarla e allora la verità ha un nome Gesù via verità e vita e la verità che è Cristo che è Gesù ci dice chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli questo è mio Padre lui è mio lo riconosco lo riconosco è mio ma se uno vive tutta la vita così senza pensare a Gesù senza riconoscere Gesù mettendolo anzi tra parentesi lì sullo sfondo come se fosse uno così tanto per messo lì intanto stai là stai là io intanto mi faccio i fatti miei contro tutto quello che tu hai detto contro tutto quello che tu hai predicato contro tutto ciò che tu hai vissuto io mi faccio i fatti miei perché tanto il Vangelo me lo faccio io con Dio me la vedo io Gesù si stai bene va bene è una bella testimonianza ogni tanto quando ho di che lamentarmi mi rivolgo a Lui giusto per dire che ti ho fatto di male però per il resto mi faccio gli affari miei beh così è riconoscere il Signore no e chi lo rinnega dinanzi agli uomini il Signore lo riconoscerà l'ultimo giorno dinanzi al Padre suo purtroppo no chi mi rinnegherà davanti agli uomini anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli ora il Signore non ci vuole rinnegare e se ci preannuncia un certo castigo cioè il rinnegamento e poi anche chi si vuole uccidere l'anima perisce nella Geenna nell'inferno se Lui ci dice queste cose non è perché vuole mandarci all'inferno vuole rinnegarci no ma è per svegliarci per dire oh ritornate in voi seguite la via della verità che vi ho indicato perché io voglio la vostra vita perché il Signore è morto per ciascuno di noi no lettera ai Romani il dono di grazia non è come la caduta se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti cioè così come un alunno che non ce la fa per così dire è un fallimento del suo maestro così tutti quelli che si perdono il Signore ci soffre nella sua umanità perché sono un fallimento del suo amore infinito che ha dato a tutti ed è per tutti allora cari fratelli e sorelle accogliamo questo dono di grazia di amore che ci ha fatto il Signore Gesù non lo disperdiamo non lo perdiamo viviamolo testimoniamolo nella nostra vita nelle nostre parole non ci vergogniamo del Signore perché se ci vergogniamo di Lui Lui si vergognerà di noi e in effetti se ci vergogniamo di Lui dovremmo vergognarci di noi stessi perché evidentemente non abbiamo capito niente del Vangelo delle promesse belle bellissime che il Signore ci ha fatto e del del regalo inestimabile che ci ha guadagnato attraverso il suo sacrificio compiuto una volta per tutte per tutti gli uomini e le donne di tutti i tempi perché la redenzione operata dal Signore è universale è per tutti è per tutti oggettivamente per tutti ma soggettivamente è per coloro che l'accoglieranno per coloro che apriranno la porta perché Lui rimane lì alla porta del cuore e bussa se noi lo facciamo entrare entrerà nella nostra vita la cambierà totalmente la rivoluzionerà però la renderà un paradiso anche in mezzo alle persecuzioni perché quelle non ce le nasconde il Signore ci saranno in questa vita ci saranno ma che ci importa beati voi quando vi perseguiteranno vi calunneranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli siano lodati Gesù e Maria